Il problema non è che io non voglio pagare il canone, il problema è tutto un altro Il problema è che se metto sulla pubblicità io non posso pagare anche il canone Perché scusa un secondo cazzo, guardo la pubblicità che mi fanno vedere Poi dopo spendo i soldi per le cose che mi ha fatto vedere la pubblicità E quindi cosa faccio, spendo già i soldi per quella roba là, devo spenderli un'altra volta Ma scusami un secondo, sarò mica un cretino io scusane C'ho anche il mutuo da pagare e me lo pago tutto io Ma dai, ma scusami, ma sono una roba da matti, dai, non ci si capisce più un cazzo Ma pensa a te cosa devo fare, ma secondo te ti sembra logico una roba del genere Ma vada via al culo, mi ha preso per scemo Mi sembra che mi state prendendo per il culo voi a me Ah che non ci sono più i soldi, né, di cosa parliamo poi? Dai cazzo, almeno una volta che non c'eravamo la televisione mia moglie me la dava Ah, facevamo almeno qualche cosa, adesso invece oltre che devo tirar fuori i soldi per tutte queste cagate qua E non la vedo più osti, e nemmeno per quella volta l'anno E non si può fare così, né, date a cagare Grazie 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 Grazie